nella scorsa lezione abbiamo introdotto i modifiers oggi andiamo a fare una panoramica di non proprio tutti ma molti di quelli più utili in questa fase appunto di disegno bidimensionale adesso preparo giusto un paio di segni continuiamo a dare un'occhiata ad array avevamo visto che si possono aumentare le copie e spostarle nello spazio si può introdurre delle rotazioni nelle copie quindi se io introduco una rotazione sull'asse y 45 gradi per esempio ecco che le copie si ruotano e però attenzione non si ruotano ognuno aggiungendo questa cifra ma la prima si sposta e poi tutte le altre sono uguali alcune rotazioni sono poco visibili per esempio questa sull'asse z gli assi possiamo anche vederli qui per per praticità vedete l'asse y non viene verso di noi l'asse x è quello orizzontale l'asse z è quello verticale se mi sposto nello spazio noto che c'è questa rotazione di 45 gradi sull'asse z solo che dalla telecamera non si riesce a vedere facilmente come abbiamo visto l'altra volta posso mettere a schermo delle informazioni posso togliere floor ma posso anche aggiungere qualcosa in questo caso per esempio potrei voler aggiungere gli assi se aggiungo l'asse x l'asse z li vedo per qualche curioso motivo comunque all'interno della visualizzazione da qui non vedo l'asse x probabilmente è coperto dal pavimento purtroppo quando siamo in questa visuale l'asse x non si riesce a vedere bene l'asse z si riesce a vedere torniamo un attimo ad array come vedete quindi è possibile sposto il count a 3 per non avere troppa roba è possibile aggiungere una rotazione appunto ed è possibile anche scalare l'oggetto scalarlo sull'asse x significa restringerlo scalarlo sull'asse z significa restringer nell'altezza per cui se voglio scalarlo ridimensionarlo quindi in maniera uguale devo inserire lo stesso valore su x e z sull'asse y non ha senso perché si tratta dell'asse che viene verso di noi e quindi qualsiasi cosa io faccia è poco visibile un metodo veloce in blender per copiare un valore da una parte all'altra quando il nostro mouse è sopra un valore possiamo premere ctrl c per fare una copia e premere ctrl v quando siamo sopra un'altra casella senza toccarla solo stando ci sopra e il valore viene copiato incollato ctrl c ctrl v una funzione interessante è questa che è la casualità mettiamo shift 0 sono tre tutti sovrapposti però se ammetto una rotazione sull'asse y di 30 gradi ecco che le due copie stanno una sopra l'altra là sopra sono due mi sposto l'esposto leggermente così le vedete sono due però siccome di 30 gradi viene spostata solo la prima e poi sono tutte una sopra l'altra non le vedo questa impostazione se la premo aggiunge un fattore di casualità fattore di casualità che può essere zero e quindi non succede niente oppure può essere man mano crescente in pratica per ogni seconda copia questo valore di 30 viene aumentato di un valore casuale per cui più porto sul valore con un massimo di 10 più questo 30 nelle varie copie cambia se lo abbasso può essere anche negativo ottengo l'effetto opposto è come se fosse un moltiplicatore di questo valore se le mie copie cominciano a essere tante aggiungendo questa casualità all'array ecco che riesco a spostarle solo che ognuna è spostata di un fattore casuale se riporto a zero questo tutte queste nove copie sono una sopra l'altra nello stesso posto e viene applicato a tutti i valori per cui se poi metto un bel 45 mi sposto mano a mano che lo alzo la segue tutte le rotazioni adesso riporto due a zero questo questo qui posso semplicemente toglierlo vale lo stesso per la scala la mia scala sull'asse x facciamo di ridurla invece di ingrandirla quindi lo strizzo un po verso il centro dell'asse aggiungendo questa casualità viene aggiunta della casualità allo scalarlo su tutte le direzioni in questo caso siccome ci sono anche x e z viene applicato sono a 1 dovrei metterle a zero perché non succeda niente solo che in quel caso mettendo la zero vedete si schiaccia tutto quanto nello stesso punto quindi è un po difficile da controllare questo questo valore ma può essere utile e vedremo degli esempi pratici dopo aver visto questa parte dell'array vediamo un attimo cos'è semplifica andiamo un po per ordine semplifica semplicemente riduce il numero di punti dei quali sono costituiti i segni a varie modalità nella modalità fissa toglie un punto ogni due più alzo questo valore più i punti calano e quindi il disegno si semplifica al quando sono al numero massimo di iterazioni in pratico ottengo solo dei segmenti fissato adattativo invece lo ricostruisce inserendo dei punti per ricostruire la stessa forma ma appunto in dimensione minore fattore zero rimane uguale più alzo il fattore più la riduzione dei punti aumenta queste sono tutte varie modalità con le quali vengono ridotte i punti sulla curva potete fare varie prove comunque insomma lo scopo è quello di ridurre il numero di punti della curva multiple strokes anche questo può essere interessante duplica per il numero indicato qui i segni e li posiziona con l'offset uguale a zero li posiziona a metà di qua e metà di là del segno che ho tracciato io più sposto questo offset a meno uno più si trovano solo verso l'interno più lo sposto verso uno e più si trovano solo all'esterno se lo metto a 0 5 parte dalla posizione originale del primo segno e va verso l'esterno se lo metto a meno 0,5 parte dalla posizione originale del segno e mette le copie verso l'interno e la distanza tra un duplicato e l'altro quindi posso aumentare la distanza vi dico un'altra cosa a proposito se voglio spostarmi più piano premo il tasto maiuscolo e mi sposto e usando il tasto maiuscolo il movimento risulta ridotto cioè il numero cresce di meno questa voce interessante enable fading perché in pratica a ogni copia può applicare una modifica attivo enable fading e porto sul valore di opacity ecco qua lo porto fino al suo massimo fino a 1 ogni nuovo segno sarà un po meno opaco del precedente quindi piano piano scompaiono funziona alla stessa maniera anche thickness se lo attivo ogni nuovo segno sarà sempre più sottile del precedente disattivo opacity così vediamo al lavoro solo thickness e vedete i segni più interni sono spessi e mano a mano che si arriva all'ultimo diventano sempre più sottili se io vario il il fattore cambia semplicemente la velocità alla quale questo succede questo valore di center decide appunto in questo momento è a 0 e quindi si parte dal mio primo segno se mi sposto a 1 funziona all'incontrario se mi metto a metà strada quindi a 0,5 il sarà il segno centrale quello più grosso e saranno invece il primo e l'ultimo tutti e due sottili e poco opachi in questo caso può essere comunque interessante per creare degli effetti abbiamo subdivide che funziona al contrario di simplify cioè aggiunge punti ci sono già molti punti anche se ne aggiungo in mezzo non si nota per capire come funziona all'opera facciamo prima un simplify con un certo numero di iterazioni e andiamo come vedete a ridurre i punti e i punti adesso sono di meno sono pochi se adesso aggiungo un subdivide e vado a aumentare anche qua il numero di punti vedete non ho fatto altro che riaggiungere dei punti che prima avevo tolto i due modificatori si sono accattastati uno sull'altro e uno agito sull'altro l'effetto finale è quello di un ammorbidimento tutto sommato perché prima semplifico le forme e poi le torno a far diventare complesse ma con dei punti interpolati e quindi l'effetto è quello di un ammorbidimento quindi se io inverto la posizione cambia completamente cioè se prima suddivido e poi semplifico probabilmente il risultato è molto più simile all'originale perché prima aggiungo dei punti e poi li tolgo e quindi quasi non succede niente quindi ricordatevi anche che i modificatori agiscono in maniera diversa a seconda di come li applicate un altro interessante è noise noise aggiunge della casualità e posso decidere a cosa aggiungerla per esempio position se io aumento il fattore lo vediamo per bene all'opera ecco adesso aumentando vedete che il segno è diventato più casuale vediamo un materiale fatto solo da punti nullo faccio un segno bello grosso e così lo vediamo anche un po all'opera quindi con questo fattore aumento la casualità e posso aumentarla o qui in questa modalità full stroke ma posso anche farlo punto per punto in questo caso punto per punto significa che ogni punto si sposta nello spazio casualmente invece full stroke agisce a livello di intero segno e anche qui ho un numero di passaggi che posso applicare e che sono più utili nel momento in cui animiamo seed invece non è nient'altro che un diverso valore casuale per cui in pratica ogni volta che voi spostate seed ottenete un risultato diverso questa spunta muovi gli estremi permette di dargli il permesso di spostare anche il primo e l'ultimo punto che invece a volte magari potremmo volere che restino nello stesso posto posso anche applicarlo alla forza adesso se levo posizione lascio solo strength a 20 è un valore troppo alto posso portarlo giù adesso in pratica ha aggiunto un fattore casuale alla forza del segno se io adesso applico del rumore a strength di nuovo adesso lo sta applicando all'intero segno se tolgo full stroke ecco che capiamo in pratica ogni punto aumenta e diminuisce la sua intensità in maniera casuale e ovviamente posso applicarlo anche sullo spessore quindi applicare un rumore allo spessore più lo alzo adesso sono sempre in modalità singoli punti più ogni punto avrà uno spessore del tutto casuale di nuovo se metto full stroke la cosa viene applicata a livello di intero segno è interessante noise soprattutto nel momento in cui facciamo un'animazione guardate se io premo play non l'abbiamo mai vista l'animazione però solo così come esempio se io premo play qui sotto vedete che si muove l'immagine si muovono i segni e se io aumento il valore di factor aumenta ancora di più questo movimento tolgo un attimo strength e metto un fattore bello ampio e vedete che ogni punto in ogni momento dell'animazione vibra perché si sposta in un posto diverso è il classico modo col quale si ottiene quell'effetto mosso per i disegni diciamo quelli in cui sembrano i segni muoversi nel tempo fermo l'animazione un altro modifier è offset offset adesso rimuovo noise offset sposta il disegno leggermente lo posso spostare sull'asse x sull'asse y sull'asse z ma posso anche ridimensionarlo posso ruotarlo ruotarlo nelle varie dimensioni spaziali smooth ammorbidisce il segno quindi fa un qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto prima cioè semplifica e poi torna ad ammorbidire anche qua posso aumentare il fattore il segno soprattutto guardatelo sui cerchi diventa più morbido quindi se la mia mano tremolava posso aggiustarlo in questo modo e anche qui posso aggiustare il tremolio sulla posizione sull'intensità del segno o sullo spessore e posso ovviamente applicare le tre cose tutte insieme thickness che mi permette di cambiare lo spessore del segno allora se lo lascio a zero rimane tutto com'è i numeri positivi aumentano lo spessore del segno però come vedete è piuttosto grezzo lo aumenta di molto i numeri negativi fanno diventare più sottile ma praticamente spesso già con meno uno si raggiunge il minimo purtroppo non si possono inserire dei valori intermedi se voi provate comunque va con numeri interi normalize rimuove completamente le informazioni di spessore variabile sul segno quelle fatte eventualmente con la penna se voi lo premete e aumentate questo ottenete di avere un segno perfettamente uniforme nello spessore custom curve è interessante perché permette di modificare la curva di spessore quella che avreste potuto fare con la penna per cui potete farla diventare personalizzata aumento un po lo spessore per farmi capire guardate questo segno lungo vedete l'ho tracciato verso il basso e avesse io adesso rimuovo un attimo il modifier vedete questo questi spessore glielo avevo dati con la penna invece nel momento in cui applico questo l'intero segno acquista un nuovo spessore in base a questa curva quindi dal minimo al massimo se per esempio inverto la curva ecco che va dal massimo al minimo oppure posso andare a fare una curva di questo tipo e avrò la punta e la parte finale molto sottili posso anche assottigliarlo ulteriormente così quindi vedete posso andare a modificare lo spessore in maniera successiva ottenendo degli effetti diversi del dello spessore del mio segno anche dopo averlo tracciato ricordatevi che ognuno di questi è interessante che si possa applicare eventualmente solo a certi materiali oppure a tutti i materiali tranne uno oppure come avevamo fatto ai layer quindi ricordatevi questa caratteristica dei modifiers ci fermiamo qui per oggi la prossima volta andremo avanti con gli ultimi modifiers di tipo color e vedremo anche un esempio pratico d'uso di tutti questi qui che abbiamo visto oggi grazie e alla prossima